Pesaro, capitale italiana della cultura d'impresa. Parte da questa iniziativa della Compagnia delle Opere, che mira a valorizzare la cultura imprenditoriale del territorio della nostra provincia, l'idea di realizzare su Rossini TV il programma televisivo Cultura-Territorio-Impresa, una serie di 14 puntate che dal 10 settembre racconterà l'imprenditoria di Pesaro Urbino attraverso le interviste di Compagnia delle Opere ed alcuni imprenditori del territorio. Questo programma è nato senza averlo neanche pensato, perché l'idea originale era quella di creare un video promozionale per Pesaro capitale della cultura d'impresa. Era un omaggio che Compagnia delle Opere insieme alla Camera di Commercio delle Marche voleva rendere all'imprenditoria locale. Però come tutte le cose, quando poi vedi che hai un grande valore davanti, ti vengono in voglia di condividerlo, perché effettivamente queste puntate che andranno in onda su Rossini TV sono estrapolate da un giro di interviste che è stata fatta per la realizzazione di un video che ovviamente comprimeva moltissimo quello che era il contenuto della proposta e invece qui vedremo la versione integrale e quindi potremmo godere delle storie degli imprenditori del territorio. L'impresa sarà vista con un altro volto, sarà raccontata con uno sguardo emozionante di chi vive il territorio all'insegna della cultura, ma soprattutto della provincia. Abbiamo girato queste puntate nel periodo di maggio, nel periodo più bello del territorio anche dal punto di vista naturalistico e vedere come quell'insediamento industriale fatto in un determinato punto da lavorare della gente in quel territorio che può coltivare i suoi campi, può anche tenere il bello dell'entroterra, è stato per me veramente guardare senza lasciare tutto per scontato, perché a volte noi guardiamo le cose e le diamo per scontate. Invece per esempio vedo anche adesso la politica che si sta molto impegnando per riaccendere l'attenzione sui borghi italiani perché i borghi italiani, se non c'è l'economia, se non ci sono gli imprenditori, rischiano di morire perché la popolazione va via e quindi andare di porta in porta in questo viaggio per tutta la provincia è stato per me proprio anche riprendere consapevolezza del valore assoluto che è poter creare degli insediamenti produttivi ed economici proprio all'interno di tutta la provincia. Poi Pesaro è un'eccellenza in sé perché come città, perché offre tantissime cose e sicuramente anche fare impresa dentro la città è bellissimo, è significativo e quindi noi abbiamo cercato di dare tutto il mix e poter offrire a chi guarderà proprio una visione di tutta quella che è la provincia. Anche perché Pesaro, capitale della cultura, ha vinto il suo progetto proprio perché si è presentata come sistema provincia e noi quello volevamo valorizzare.